Una manifestazione è punto di riferimento per l'intero territorio che richiama tante presenze e ospiti di spessore a Montorio nei Frentani. Oltre 1200 artisti di fama nazionale e internazionale si sono esibiti sul palco della rassegna Noi Artisti di Questa Terra, giunta la 21esima edizione, portare i grandi eventi nei piccoli centri e valorizzare gli artisti molisani che si sono distinti in Italia e all'estero. Questo è il senso del progetto che il direttore artistico Antonio Molino ha portato avanti con sacrificio, lungimiranza e la consapevolezza di amare il proprio paese. Arte, storia, cultura, musica, spettacolo, sport, ma anche tradizioni popolari per cementare l'appartenenza a un territorio e promuoverlo anche fuori dai confini regionali, grazie all'immenso patrimonio di ricchezze conservato dalle piccole comunità. L'obiettivo è quello di condividere anche quest'anno una serata da non perdere, martedì 8 agosto, tra premi, esibizioni e sorprese. A Montorio nei Frentani, Manuel Petti e l'orchestra Mirko Casadei. Lui è fisarmonicista da oltre dieci anni del celebre gruppo musicale. Edoardo Siravo, attore e doppiatore con più di 120 spettacoli teatrali alle spalle. E poi Flavio Sala, chitarrista di Boiano, che ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali. Cristian Pionese Ottavino, a solo 8 anni, ha già tenuto concerti con l'orchestra di Fiati Arturo Toscanini. Suo fratello Massimiliano Nese, dieci anni, primo trombone della Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. L'evento ospiterà il premio internazionale Marzio Rossi e verranno proiettati due video vincitori del concorso. Il premio alla cultura verrà assegnato al professore Emilio Gentile, docente di storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma. Premio scientifico a Guido Greco, ideatore di brevetti meccanici e montoriese. A Cristian Voccia, notaio esperto in diritto di famiglia, il premio giuridico economico. Premio alla cultura sportiva Alcus Molise Calcio a 5, campione d'Italia 2017. Per la danza Vincenzo San Giovanni e Martina D'Aloia, campioni regionali di ballo di danza caraibica. Ospite della serata Federica Carta, cantautrice e finalista da Amici 2016, il talent show di Maria De Filippi con i brani Ti avrei voluto dire e attraversando gli animi. Il coordinatore della manifestazione, Antonio Molino, rinnova quindi l'invito per martedì 8 agosto a partire dalle 21.30 a Montorio, nei Frentani. Uno spettacolo da seguire per la qualità e la passione che hanno sempre contraddistinto noi artisti di questa terra.